Imparare dalla natura e dalle api, il pane, l'alveare e il caramello al miere. Lavoratorio di api con l'obiettivo di comunicare il lavoro delle api e l'importanza della natura e del mondo, è titolo provvisorio. Ho cucinato un po' di merende alle api con un po' di pane e pasticcini. Il primo passo per far avvicinare le persone che non si sono mai avvicinate alle api e al miere, quello di far interessare sia i genitori sia i bambini e quello di farli interessare, poi mangiare, toccare e facendoli provare sensazioni con tutti e cinque sensi. Facendo laboratorio e altri vantaggi sono l'incontro con le persone nuove, le creazioni di amicizie, l'apprendimento e l'ampliamento del proprio mondo, la riqualificazione dei valori, la crescita della mente del bambino. A scuola ci sono sempre più opportunità di apprendere le tematiche ambientali. I bambini possono applicare ciò che imparano nella loro vita quotidiana, il che darà loro fiducia e motivazione per fare altre cose. I ragazzi imparano che tutti gli esseri viventi sulla Terra, compresi noi umani, vivono in simbiosi e che le cose possono cambiare il meglio quando si impara a conoscerle prospettive diverse. Questo piccolo qualcosa simile a un seme cresce nel cuore nel futuro. Quando ci scontriamo con un muro o dobbiamo combattere con qualcosa, possiamo cercare la via della simbiosi invece dell'isolamento, dello scontro e conflitto. Se questo seme cresce nel cuore di ogni essere umano, si realizzerà un mondo senza guerre. Oggi purtroppo penso spesso a questo. Così potremmo avere un mondo spettacolare alle api e ai umani. E per questo comincio a seminare. Ora cominciamo.